Cambiare il modello in modo che assicuri giustizia, giustizia sociale, giustizia climatica perché molto spesso l'economia viene pompata attraverso attività che sfruttano l'ambiente, producono surriscaldamento modificando la biosfera. Questo è lo striscione di We Are The Tide, You Are Only G20, questo è proprio lo slogan ma soprattutto anche il gruppo, la piattaforma che raccoglie tutti gli attivisti che oggi si ritrovano qui. In poche parole tradotto per chi non lo sapesse, noi siamo la marea, voi solo G20. Hanno deciso di continuare ad investire sui combustibili fossili, quindi scelgono di venire a Venezia, mentre condannano Venezia a morte assieme a gran parte delle città costiere del Mediterraneo. Come ci hanno spiegato molti degli attivisti che sono già arrivati qui, quello che loro oggi vogliono dare è un messaggio che arrivi forte e impetuoso proprio come una marea e che vada diciamo a superare con tutte le presenze di oggi quelle che ci sono al G20. È importante che le lotte si uniscano, quindi essere qui anche con non una di meno, con chi lotta per il diritto alla casa, reddito io di cittadinanza, tutte le altre lotte, è importante che si uniscano. Ci sono sempre più super ricchi, cresce un gruppo molto piccolo di super super ricchi e aumenta diciamo un impoverimento complessivo del resto della popolazione mondiale. Non possiamo permetterci la guerra tra lavoratori e tra i poveri, su questo andremo quartiere per quartiere a sensibilizzare sia i cittadini sia le organizzazioni sociali e quant'altro per costruire quell'alleanza tra il servizio pubblico, la sanità pubblica e tutto quello che c'è di welfare e quindi di stato sociale.